ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video so che non ho pubblicato tanti video sul canale però questo qua è un nuovo remix di la visione Gigi D'Agostino la canzone so che non è mia appunto come ho già detto precedentemente è un remix spero che vi piaccia buon ascolto iscriviti al canale 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 no 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 no